Good morning a tutti voi e buona giornata. Oggi è la festa dei lavoratori e della festa del primo maggio, San Giuseppe, San Giuseppe lavoratore che ha lavorato. E allora nella prima lettura ci sono due possibilità, il libro della Genesi oppure la lettera ai Colossesi e mi fermerei sulla lettera ai Colossesi del capitolo terzo al versetto 14, dal versetto 14 poi. Quindi, fratelli, sopra tutte queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. Rivestitevi della carità, rivestitevi dell'amore, perché questo è il centro del cristianesimo, è il centro della fede. Noi possiamo girarci intorno, possiamo dire un sacco di cose, ma questo è il centro. Rivestitevi della carità, cioè rivestitevi di Cristo, perché questo significa rivestirsi della carità, significa rivestirsi di Cristo, perché di Dio Cristo è carità, Cristo Dio è amore e nient'altro. E se noi viviamo questo abbiamo vissuto tutto, abbiamo vissuto il cristianesimo, siamo cristiani, siamo cristiani quando amiamo. La pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo, che è il corpo di Cristo. Noi siamo chiamati ad essere parte del corpo di Cristo e rendete grazie, che bella sta cosa, e rendete grazie, rendete grazie. Negli ultimi mesi ho ripreso anche questo modo di pregare, rendete grazie, e l'ho ripreso grazie a una persona che mi ha invogliato, diciamo così, alla preghiera di Dode, a rendere grazie. Non finiamo mai ogni nostra giornata senza rendere grazie, nonostante tutte le avversità che noi possiamo vivere nella nostra vita, e ce ne sono, e alcune persone veramente ne vivono tante. Non smettiamo di rendere grazie, perché la gratitudine in realtà, la gratitudine ci cambia la vita, cioè la nostra insistenza nel rendere grazie ci modifica, ci cambia, ci rende più belle persone, potremmo dire così. Ecco, rendete grazie, rendete grazie, quindi oggi rendi grazie, perché sei vivo, perché puoi rivestirti della carità, perché puoi andare, perché puoi camminare, puoi correre, non tutti possono fare questo, ecco. Ma anche se non potessi farlo, rendi grazie per quello che puoi vivere, per quello che puoi pensare, per quelle persone che puoi amare, rendi grazie. E poi, e qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, qualunque cosa facciatela, fatela di buon animo, volentieri, con il sorriso sulla faccia, con gli occhi luminosi. Guardate, questa è una cosa così, potrebbe sembrarci banale, ma noi spesso, noi cristiani, noi parrocchiani, facciamo le cose, però le facciamo anche sempre con un po' di, uffa, tocca di nuovo a me. No, fateli di buon animo, che bella questa semplicità del Vangelo. Fate le cose di buon animo, fate le cose volentieri, fate le cose con il sorriso sulla faccia, fate le cose con la voglia di farle, altrimenti non le fate, ecco. Perché il cristianesimo ha la gioia, come dire, nell'anima, nel cuore, ecco, sapendo che dal Signore riceverete come ricompensa l'eredità, servite il Signore che è Cristo. Qual è la nostra eredità? La nostra eredità è essere figli amati, questa è la nostra eredità. Le cose belle della giornata di ieri? Ieri, sostanzialmente, la mia giornata è stata segnata da alcune persone con cui ho parlato, magari con alcune persone, come dire, ho discusso perché non ci troviamo d'accordo su alcune cose, alcune persone mi hanno veramente sorpreso, alcune persone mi hanno dato tanto, cioè, anzi, tutte le persone mi hanno dato tanto, anche quelle con cui magari non condividevo certe cose. Però, ecco, incontrarsi con gli esseri umani è qualcosa di magnifico, bello. Incontrarsi nella verità è qualcosa di bello. E rendete grazie, e io quindi oggi rendo grazie per le persone che ho incontrato ieri, e che, come dire, hanno contribuito alla bellezza della mia giornata. Ale, buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.